Buonasera a tutti, come al nostro solito siamo qui per analizzare quanto è accaduto nella giornata odierna sui mercati finanziari e vi devo subito dire che a parte qualche rara eccezione non è stata di certo una giornata entusiasmante. Si era creata un'attesa forse eccessiva rispetto all'intervento, alla presenza di Powell in questo simposio dei banchieri a Stoccolma, ha rilasciato alcune dichiarazioni, nessuna particolarmente significativa, però ce l'ho qui nel mio sito di informazioni. Quella che mi lascia un po' più perplesso è che per stabilità dei prezzi servono misure non popolari. Secondo me questa dichiarazione però lascia ancora aperta la strada agli aumenti preventivati dalla Fed e il mercato sta scommettendo contro la Fed, per il momento sta vincendo il mercato, però la resa dei conti è ovviamente tra pochi giorni perché a inizio febbraio ci sarà la riunione della Fed e già giovedì comunque ci sarà il dato sull'inflazione negli Stati Uniti che non potrà che condizionare le decisioni della Federal Reserve. Vi condivido però subito lo schermo perché dobbiamo partire ovviamente dagli indici americani come nostro solito. In realtà la positività che c'è in questo momento sui indici americani e lo potete vedere anche qui dai futures, vedete più 0,24 il Dow Jones, più 0,38 lo Standard & Poor's, più 0,47 il Nasdaq e anche più 1,35 il Russell, non ha mutato così tanto il quadro tecnico perché ci troviamo ancora per il Dow Jones sotto la resistenza statica di 33.773, per lo Standard & Poor's 500 continuiamo a essere sotto la media mobile a 50 che è 3.907, però è importante una chiusura sopra questo livello, per il Nasdaq siamo ancora abbastanza distanti dal massimo di ieri che è stato 10.807. Notiamo però con piacere che pur in candela inside il DAX ha confermato la rottura avvenuta ieri del massimo, quello relativo precedente del 13 di dicembre a 14.675, il CAC è riuscito anch'esso a confermare la rottura che era già avvenuta venerdì e l'Eurostox ugualmente sempre con candela inside ma rottura confermata. Per quanto riguarda il nostro Fuzzi Mib, anche qui candela inside, ha provato a andare oltre perché vedete che il massimo di oggi è stato 25.445 e il massimo di ieri è stato 25.450, però al momento è candela inside. Rimane ancora valido il target che vi ho dato di 25.625 che è il massimo del primo di marzo, io vi ho detto la prima settimana di marzo dello scorso anno perché vi avevo messo il time frame settimanale, e poi c'è 25.920 massimo del 25 di febbraio dello scorso anno. Faremo come al solito una versione short per quanto riguarda durante la settimana il Fuzzi Mib, poi ci sono gli spunti interessanti sull'MTA e sull'AIM che vedremo assieme perché come vi ho già detto in precedenti video vorrei che allargaste la vostra view a più titoli e non soltanto a quelli più capitalizzati. Cominciamo dai migliori e partiamo da Fineco, Fineco oggi ha dato anche i dati, scusate il gioco di parole, sulla raccolta come al solito piuttosto positivi, la candela di oggi addirittura è un engulfing bullish, ve l'allargo così dovreste vederla meglio, minimo intraday a 16.325, poi chiusura addirittura a 16.83, sopra il massimo di ieri che era stato a 16.72, se allarghiamo il time frame a settimanale vediamo come il successivo target è 16.89, quindi non molto distante dalla chiusura odierna, poi abbiamo 17.345 e i massimi storici toccati nella seconda settimana di novembre del 2021 a 17.51. Rimane sempre il pericolo del gap lasciato aperto a 16.085, personalmente avendo fatto oggi comunque una candela con un range piuttosto importante, se fossi in posizione mi chiuderei sotto il minimo di oggi che è stato appunto 16.325 e probabilmente come vi ho già detto aspetterei il titolo per rientrare almeno a 15.61. Secondo titolo tra i migliori di giornata Poste, vedete che Poste sta provando a uncinare a rialzo e la rottura sarebbe il massimo, sopra il massimo del 5 di gennaio che è 9.72, al di là di questi massimi allineati della seconda metà di novembre, credo che a quel punto il target sarebbe 9.856, gestione della posizione in stop profit sotto 9.46, si torna a guardare il titolo a 9.22, meglio ancora a 9.09. Poi abbiamo Intesa, Intesa sta provando a uncinare ancora il rialzo, in realtà oggi ci è riuscita ma per pochi tick perché il massimo di ieri era stato 2.2475, se allarghiamo il time frame a settimanale vediamo che il target grafico successivo addirittura è il massimo della prima settimana di marzo del 2022, 2.37 e mezzo. La gestione della posizione anche qui passa da uno stop profit che al momento metterei un po' più larghino sotto 2.1755 e tornerei a guardare il titolo prima sul test della media mobile a 50, 2.116, l'ideale è un ritorno ovviamente a 2.061. Poi abbiamo Iveco che continua il suo momento di forza, qui c'è stata la conferma della commessa di poco inferiore ai 200 milioni per i mezzi anfibi, credo che la fase di recupero in atto possa continuare fino a 6.32 e mezzo e poi fino a 6.36.8. In questo caso fatemi verificare, massimo 6.0, sì, c'è un micro gap da chiudere a 6.016, la media mobile a 50 invece è poco sopra 6.02. Mi sono impappinato, vi chiedo scusa perché stavo pensando che devo scusarmi con Giancarlo perché stamattina avevo detto erroneamente che Eni doveva ancora chiudere il gap a 14.065 invece l'aveva già ampiamente chiuso, quindi aspetterei per uscire dal titolo la chiusura del gap, lo so che è uno stop leggermente largo e tornerei a guardare il titolo non prima di 5.72 euro. Veniamo ai titoli peggiori, Moncler che dopo la shooting star di ieri fa un minimo intraday a 51.3 poi chiude a 51.9, in questo caso si poteva ancora mantenere il titolo, magari il 51.3 diventa un livello di uscita nel caso venisse perso e si aspetta un ritracciamento direi l'ideale probabilmente addirittura sotto 50, probabilmente sui 49.5, anche perché oggi è stato venduto tutto il lusso, faccio un attimo una divagazione, vedete per esempio Cucinelli, poi ha un po' rimbalzato, è andato a fare nel frattempo nuovo massimo storico in apertura a 74, ma da 74 è scesa addirittura a 68.20, per cui la forza è sempre pericolosa nonostante il mercato sia ben impostato, qui come vi avevo già ricordato nel video di questa mattina sono usciti i dati preliminari molto buoni, però sono dati preliminari e quindi il mercato dopo l'apertura ha venduto in maniera importante il titolo, finché non perde il 67.2 si può mantenere però io come vi ho già detto aspetto il titolo almeno in area 63. poi Campari, come sapete io l'ho acquistata ieri, oggi mi ha fatto quasi la contro candela, però in realtà non ha perso i minimi di ieri che sono stati a 9.80, oggi ha fatto un 9.81.2, ha un gap micro da chiudere a 9.76, io continuo a confidare in quello che vi ho già detto, ovvero che il titolo lo vedo potenzialmente fino a 10.455. Poi tra i titoli più deboli abbiamo Prismian, però sono ovviamente debolezze relative e in questo caso l'aspetto più diciamo pericoloso è questo pattern che è una sorta di careversal di pringhiana memoria e a questo punto potrebbe andare anche già nelle prossime sedute almeno fino a 33.75, a 33.97 c'è una media mobile a 50, il target successivo è 33.12, 33.14, poi vi ricordo ancora il micro gap da chiudere a 33.05. Poi abbiamo Ferrari, ripeto sono variazioni negative e marginali, qui abbiamo più che altro una candela inside, ma anche qui è preoccupante magari per chi detiene il titolo perché comunque viene da un rally importante di breve che sia stata una giornata in cui c'è una sorta di gravestone doji, per cui che sia 210.6, che sia 209.2 dove dobbiamo, dove c'è un gap da chiudere, premonirci con uno stop profit in macchina, io vi ho già detto che non guarderò il titolo prima della chiusura del micro gap lasciato aperto a 202.6. Passiamo ora ai titoli diciamo al di fuori del Fuzzimib. Ovviamente voglio parlare di size getters perché vedete che candela ha fatto oggi l'ordinaria range incredibile 28.8 32.35, volata già ieri perché ieri ha fatto più 24% l'ordinaria sulla notizia di cui vi avevo parlato della cessione della controllata americana con una plusvalenza mostruosa, è stata ancora più comprata la risparmio dell'ordinaria e secondo me questo potrebbe spiegarsi solo con l'ipotesi che nel prossimo futuro magari con un rapporto uno a uno le risparmio vengano convertite in ordinarie. Io ormai le ammiro, sono sincero, però peccato perché ovviamente sarebbero state delle belle occasioni di avessimo detenute in portafoglio. Poi si è comportata molto bene anche Sol, vedete che Sol addirittura fa una Marubozu White perfetta 18.52 19.20 ovvero minimo in apertura massima in chiusura, rimane il gap da chiudere a 18.44 per domani si può tranquillamente ipotizzare un ritorno almeno fino al massimo del 10 di novembre che è 19.54. Guardiamo poi eventualmente altri target successivi, direi 19.80 massimo dell'ultima settimana di gennaio del 2022. Ovviamente io sarò compratore soltanto se dovesse almeno chiudere il primo dei due gap lasciati aperti perché ne ha un altro addirittura a 18.24. Poi titolo segnalato da alcuni iscritti al canale, anche questa sono sincero mi è scappata ed è la FOS, oltretutto c'è da chiudere un gap lasciato aperto a 3.36, il breakout è stato molto significativo e a questo punto il titolo potrebbe arrivare almeno fino al massimo del 27 di gennaio che è praticamente di 3.78. Poi per la gioia del mio amico Andrea parlerò di Saras perché non solo perché io la detengo nel mio portafoglio di medio e lungo periodo, spero che ce l'abbia ancora lui perché non aveva anche lui perché non ha dato ancora alcun segnale di uscita. Il target per le prossime sedute è prima 1.32 massimo del 25 di novembre e poi 1.35.5. Ovviamente per quanto riguarda Saras bisogna sempre tenere monitorato il discorso legato al margine di raffinazione, oggi è uscito e si chiama MC, aspettate che vi traccio anche questo massimo come target. La notizia è che Saras ha comunicato i dati settimanali sul margine di raffinazione medio dell'area mediterranea, il margine di raffinazione medio al 6 gennaio 2023 si è attestato a 12 dollari al balire rispetto agli 11.5 dollari della settimana precedente. Gennaio si è per dunque con un margine medio inferiore rispetto ai 13.3 dollari del quarto trimestre 2022 ma superiore rispetto ai 9.6 dell'intero 2022. Ricordiamo che in seguito ai risultati del terzo trimestre 2022 Saras ha alzato il suo obiettivo di poter conseguire nel 2022 un premio di raffinazione medio su base annua a 7-8 dollari rispetto al barile rispetto all'MC reference margin. Ovviamente dovete sempre considerare che Saras nel 2021 aveva margini quando non erano negativi di 2-3 dollari al barile per cui io continuo a mantenere e sono ancora piuttosto fiducioso. Vi voglio far vedere anche Grifal perché in realtà Grifal l'altro giorno era venuto un venditore piuttosto importante a 2.05, vedete infatti questa candela con minimo a 2, parlo di 5 gennaio, vedete il picco di volume 84 mila pezzi. Oggi invece hanno provato a farla ripartire, in questo caso la rottura sarebbe 2,24, oggi ha fatto 2,23, diciamo che fino in area 2,40 potrebbe arrivare. Veniamo alle note dolenti, Secco. Ecco, Secco molti so che la seguono perché è un titolo che era sceso moltissimo dai massimi, vedete che era arrivato a 10, era sceso addirittura a 4. L'ho già spiegato più volte il problema di Secco, che è una società che mi piace molto, ma i Montipi sono piuttosto generosi, come amo dire, per cui oggi purtroppo fa contro candela rispetto a ieri, proprio che reversal piuttosto nitida, se domani viene ancora giù probabilmente andrà almeno a 5,42 e poi nelle prossime sedute fino a 5,25. Poi, brutto contro movimento di Montepaschi, qui in realtà dai minimi l'intraday aveva anche fatto un rimbalzo abbastanza interessante, perché comunque aveva fatto un minimo a 2,1,155, poi ha chiuso a 2,14, però vediamo se riesco a farvi vedere il movimento in intraday da sfera perché è un po' più chiaro. Vedete che praticamente aveva fatto un bel minimo profondo e poi aveva rimbalzato fino praticamente quasi a 2,25, però è un titolo sempre molto particolare, io non mi stupirei di vederlo di nuovo sotto 2 o magari tornare sui massimi, perché è molto difficile come lettura in questo momento Montepaschi per come si sta muovendo. Poi tra i titoli negativi vi voglio sottoporre culti, allora io ho preso un primo chip oggi, anche se sto rischiando molto, perché ieri aveva fatto un massimo a 27,8, oggi ha fatto un minimo addirittura a 21. Io credo che a livello fondamentale la società sia a questi prezzi oggettivamente sopravvalutata, però io ho questa idea, come contesto i tanti miei colleghi che pretendono di insegnare a fare trading, fanno corsi e non operano in borsa, io oltre a metterci la faccia ci metto anche i soldi, per cui ho una mia filosofia, compro poco perché ne ho comprato solo un lotto e sono 125 pezzi, però in questo modo ho il pathos, per modo di dire, perché 125 pezzi li posso sopportare anche se dovesse venire ancora giù, legato al fatto che io ci abbia messo del denaro, perché vederla solo sulla carta ovviamente è secondo me molto sterile come procedura. Il titolo però può ancora scendere fino a 26 e poi eventualmente fino a 18,8, poi credo che un corposo rimbalzo potrebbe tranquillamente farlo. In quest'ottica vi voglio far vedere anche Ecosantec, perché oggi ha poi recuperato, però dai massimi a 21 era andata a fare 17,15, questi sono titoli molto pericolosi perché sui fondamentali a me Ecosantec non fa impazzire, ovviamente vedete che potrebbe arrivare addirittura a fare i massimi storici toccati in area 21, però è un titolo che vi consiglio solo di mettere in watch list per vedere come si muove ma non operarci sopra. Ultimo titolo di giornata Eclavo perché vedete che gli eccessi purtroppo in borsa si pagano, qui c'era stato questo movimento incredibile da 1,90 a 1,45 da più 22% ma il titolo partiva da 1,72 solo per un aumento dei risultati sui ricavi preliminari per carità da 52 a 60 milioni ma non è giustificato che su un più 20% di fatturato il titolo faccia più 22, più 5 e qua era arrivato a fare più 4, più 5. Quindi ieri aveva fatto un massimo a 2,39, oggi è già scelto a 2,08, io tornerò a guardarlo solo da 1,90. Ultima nota perché non l'ho fatto in apertura ma ne parliamo tutti i giorni e voglio ribadirla, oggi volumi deludenti, 1,682 miliardo arrotondiamo, questo significa che il mercato non è ancora secondo me così sicuro sul da farsi, aspetta probabilmente questo dato di giovedì, secondo me la famosa prova del 9 ci sarà però con le banche centrali di inizio mese, prima Fed e poi BCE se non erro, un giorno di seguito all'altro tipo mercoledì 1 e giovedì 2, adesso vediamo se mi apre il calendario, penso sia mercoledì 1 Fed e giovedì 2 BCE, se ho sbagliato scrivetemelo perché non sono ovviamente infallibile e poi però io non sottovaluterei la stagione delle trimestrali, perché si chiudono i bilanci annuali e sono curioso soprattutto su quelle europee di vedere l'impatto dei maggiori costi energetici. Per questa serata ho concluso, ovviamente noi ci vediamo domattina prima dell'apertura del mercato diurno, spero che anche questo video sia stato apprezzato da voi e magari scrivetemelo nei commenti come fate abitualmente, noi ci sentiamo domattina prima delle 8.